Sì, non riesco a dormire, sì sì, è inutile che ve lo state chiedendo, ma tu a storia non riesco a dormire, sono andato a giocare, dolori ovunque, sento veramente dolori in ogni parte del corpo, la vecchiaia, sì, giochiamo tardi, 11 di notte, poi in casa, fai 10 doccetti, si fa no, si fa no, e allora sono qui a rompervi il coglione, non posso l'idea perché c'è la nonna che invece lei dorme, si spera, si crede, Ma non ve ne fregano, non ve ne fregano, non ve ne fregano, allora parliamo di Alexander Kolarov, l'ennesima richiesta esplicita di Antonio Conte, alla faccia del mercato oculato, mercato oculato davvero, si va sugli over 30 per avere giocatori adesso pronti, altro che pronti, forse troppo pronti, decisamente troppo pronti, Vi chiedo solo una raccomandazione, l'unica, veramente l'unica, non mi dite, non mi dite quanto prende di ingaggio il giocatore, non me lo dite, qualora arrivasse a scatola chiusa, non lo voglio sapere, Non lo, non lo, shh, shh, basta, non lo, non mi interessa, non lo voglio sapere, non lo voglio sapere, shh, teniamolo, teniamolo nascosto, per favore, in qualche modo, nascondiamo. 35 anni a novembre, giocatore sì, integro, ma arrivato, quindi non facciamogli un contratto lungo, chiedo solo questo, per il resto il valore non si discute, il valore non si discute. Il mio timore è che l'anno prossimo abbiamo una squadra di mattatori che poi però spremuta su tutti da riciclare, questo è il mio timore, è un timore che con Conte, che con Conte onestamente era anche prevedibile. Quando poi ci sono stati i diverbi, ma come mai Conte, ma qual è il problema? Il problema è questo, la società voleva, l'ho già detto mille volte questo discorso, forse qualcuno ne credeva, forse da adesso in poi, forse magari qualcuno dirà, ma forse Neschio non era così fesso come sembrava. E' fesso, ma forse non tanto quanto sembrava. Sì, lo è, ma forse non troppo. Come ho detto, società, malotta, gallina domani. Conte, uovo oggi, uovo oggi, uovo oggi, uovo oggi. Non gallina vecchia che fa buon brodo, ma uovo oggi. Forse gallina vecchia, non lo so, vabbè, lasciamo stare. Bene, vi dico un'altra roba. Io comunque, per non saperne leggere né scrivere, qualora arrivasse, questo va bene. Questo comunque va bene per un motivo specifico. Uno, non sarebbe l'esterno-sinistro di Conte. Non viene all'Inter per fare l'esterno-sinistro. Secondo me, vi do qualche dettaglio tattico, voglio fare il capello della situazione. Questo viene a fare il difensore, uno dei tre di dietro, a sinistra. Sappiamo che Conte imposta soprattutto con i centrali. Lo sappiamo, chi ha visto le partite lo sa, per cui questo va a prendere il ruolo di Bastoni. Primo di sinistra. Bastoni, non lo so, a questo punto verrà spostato a destra, visto che credo che Conte ci tenga tantissimo ad Alessandruccio. Questo viene a fare con la roba. Ovviamente giocherà anche esterno, per carità, ma non posso estenere certi ritmi, almeno credo. Per il resto abbiamo uno che sa battere i calci da fermo, sa segnare da fuori, che non è poco, onestamente. All'Inter ho sempre ricriminato questa assenza. Un giocatore che ha personalità, che ha leadership dietro. Alcune volte ha dei mancamenti proprio, me ne avvedo alla Roma. Sarà per una mancanza di lucidità, sarà per qualcosa ma ogni tanto si resetta dietro. Però, ripeto, questo è un giocatore forte. Su questo credo che non ci siano dubbi. Però ragazzi, ha 35 anni. E se ci metti lui, ci metti Vidal, ci metti Nengolank e Torna, ci metti Sanchez, ci metti Godin, lo stesso Andanovic, ingaggi altissimi. E questo poi non ce lo dobbiamo dimenticare. Perché poi è facile dire, con questi si vince. Sicuramente, magari si è pronti a vincere. Però questi poi ti rimangono sul gruppone per anni. Abbiamo visto la Juventus, i vari Matuidi, i vari Chiedi. Ah, io faccio il paragone con chi vince. Faccio il paragone con chi vince, chi poi si è ritrovato in casa, giocatori che puntano i piedi. E ripetisco Chiedi, Matuidi, Higuain. E poi non è facile fare mercato. Lo fai adesso, ma poi ti rimango sul gruppone. Quindi c'è da stare attenti. C'è da stare attenti. Vuoi prendere anche Collarov e Vidal? Basta, basta poi. Basta poi over. Basta poi over 30, 33 anni, 35 anni. Basta poi. L'ultimo. Concediamogli questo e basta. Gli voglio bene a Conte, per carità di Dio. Ma basta. Perché poi veramente facciamo una casa di cura, per carità di Dio. Non dovrei neanche scherzarci su queste cose. Però basta. Contento, ribadisco. Perché secondo me lì ad impostare, fare uno dei tre centrali a sinistra, può essere anche oro che cola, per carità. Però basta poi. Però basta poi. Andiamo a dormire. Ci proviamo in qualche modo. Ci proviamo. Un grande abbraccio. Daneschi. Ciao. 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 Grazie a tutti.